non è difficile fare live a quest'ora in queste zone me ne ero dimenticato guys mi sono troppo imborghesito porca miseria mi sono troppo imborghesito ma troppo guys veramente un botto non va bene ma c'è un tiktok cara no no di niente cara ma figures ma ma figurati splendido divertitevi grazie per i cento una sigaretta te la trovo io una sigaretta ma che comprare ma è la cosa più borghese che possa fare in vita mia o ma abbiamo scusami scusa sto in live caro buonasera capitano buonasera siamo in live tutto bene no su tiktok questa volta si è convertito al family friendly no ma è più o meno beh guarda che qui c'è anche quello family friendly e cos'è che vuoi fare altre persone ci sono siamo in 2700 buono senti un po zio ma dimmi c'è qualcosa da fare adesso il caso cazzo ne so io c'è qualche delirio qualche delirio che si può fare perché ho questo vicino di che abbastanza nooo e per forza no raga dai fate i buoni fate i bravi cosa potreste fare voi scusate cosa cercavi da fare tu dennis una bella camminata in spiace una bella caessa a milano con pao puoi partire al massimo all'idroscalo se ti va eh vabbè zio niente non si può fare niente tu dici dichiari sei allibito un po dalla situazione niente da fare neanche lui mi spiace torniamo a casa perché siamo un family friendly tornate a casa ragazzi che c'è il coprifuoco ciao belli buona serata ciao che grande dennis cazzo che fusto che stallone sai dove l'ho incontrato l'altra volta dove in via lecco seduto con i miei amici bravo 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 ma la prima ci ha parlato prima mentre lì al bando ma che cosa che ha detto è tranquillo è normale tranquillo è tranquillissimo ragazzo molto bravo molto bello si bello molto 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 bello grazie i caroschi un sorriso per te can i say hi to fede you? hi fede you hi fede you you are the best freebooter in the town best 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 freebooter in the town yes ma